allora prima cosa, prima di andare avanti visto che mi hanno chiesto in tanti nell'intervallo sul tema d'esame e poi magari è possibile che torni in qualche altro tema d'esame c'è questa questione delle immagini che crea tanta ansia ma vabbè, è comprensibile queste immagini dove le metto? io il consiglio che ho dato è questo no, non era questo dove era? no, ce n'era c'era un commento, mi è sparito vabbè, si poteva andare a vedere sul slide 22 no, slide no, questo non c'entra niente numero 22 non mi cerca nei commenti vabbè comunque, allora ve lo dico a voce facciamo prima forse ah, eccolo qua va bene non salvate le immagini nel DB perché sono dati binari è un pasticcio è complicato non l'abbiamo visto complica solo e basta ok? quindi, le immagini visto che tra l'altro diciamo almeno 4 immagini prendete 4 immagini possibilmente non enormi così scarichiamo più in fretta tutto ma e ve le mettete in una cartella sul server che poi la fate servire in maniera statica no? vi ricordate? slide 22 delle set delle slide di express c'è scritto come creare una root che va in una cartella e tutti i nomi dei file vengono trasformati in parte di quell'urla la parte finale no? definite una cartella vedete che è mappata su barra aesthetic e quindi voi quando scrivete localhost barra aesthetic barra nome dell'immagine caricate quell'immagine dal client ok? quindi quando avete bisogno di questa immagine o il client sa già che deve metterci davanti localhost barra aesthetic eccetera e voi fornite solo il nome dell'immagine oppure fornite tutto l'urla quindi portatevi dietro nelle informazioni delle immagini solo l'urla ok? o parte dell'urla il nome dell'immagine ok? quindi eh questa è la maniera più semplice di gestire questa questione delle immagini eh quindi mi hanno detto che sull'altro corso in inglese uno degli altri corsi in inglese ha scritto eh se bisogna embeddarle nel client eccetera si è vero che forse si può fare qualche pacciocco di questo tipo come si fa per esempio con i eh con le icone di bootstrap eccetera però eviterei di fare queste cose ok? perché eh perché poi non funzionano non le abbiamo provate non le abbiamo viste poi non sapete come andarle a recuperare la cosa più semplice averle sul server quattro immagini in una cartella quindi nella struttura del server ci sarà eh vi fate una sottocartella qui e non so la chiamate boh static e lì dentro ci mettete quattro immagini dovrete mettere in index un use static eccetera come c'è sulle slide e avete risolto il vostro problema avete degli url che possono caricare le immagini dal client fine dove c'è bisogno delle immagini amg src url fine ok benissimo allora spero sia chiaro a tutti questo poi qualcuno mi ha fatto delle domande però devo chiedere ai colleghi e vi scrivo sul documento e su telegram le risposte e poi aggiorniamo il testo ecco queste sono le domande che veramente creano un dubbio e allora poi aggiorniamo il testo su queste cose tipo non so i blocchi contengono del testo o no è vero in effetti io non ci ho pensato e ho dato per scondato di sì ma in realtà non c'è scritto quindi se vogliamo che contengano il testo piuttosto lo specifichiamo però prima voglio consultarmi con i miei colleghi anche perché non ho creato io questo tema d'esame quindi non ho in mente cosa voleva fare cosa voleva fare ok va bene allora vediamo di finire il discorso sul nostro tema d'esame quindi noi stavamo ragionando sul readme noi stamattina perdiamo cioè perdiamo usiamo tanto tempo si vede un po' dovremmo passare alla visualizzazione chiara forse non so più come si fa preferenze file auto preference profile temi giusto questo è il dark prendiamo il light va bene si vede un po' di più ok va bene ok allora noi abbiamo fatto le nostre API ancora suscettibili di raffinamento mentre andiamo avanti poi con lo sviluppo eventualmente se pensiamo di cambiarle possiamo farlo però dobbiamo avere una bozza ragionevole da cui partire questa mi sembra una bozza abbastanza ragionevole quindi diciamo autenticazione e queste sono le altre quindi l'autenticazione non c'è niente da pensare tranne eventualmente cosa ritornare oltre l'informazione dell'utente e poi di solito con 4-5 API risolvete tutto vedo ho visto dei temi design 10-15 API ma se arrivate a 10 API probabilmente c'è qualcosa che si può accorpare fare meglio o soprattutto fare più giusto nel senso in un'unica operazione in unica API lato server quindi facendo più query nella stessa API lato server che non solo è non faccio tante API ma è proprio faccio la cosa giusta perché mentre chiamo un API abbiamo detto nessuno può infilarsi a fare altre cose attenzione prego in alcuni locali si è svolta una prova di evacuazione la prova di evacuazione è finita e le attività possono riprendere va bene grazie ma non c'entriamo attenzione prego in alcuni locali si è svolta una prova di evacuazione la prova di evacuazione è terminata e le attività possono riprendere grazie allora tabelle in molti mi vengono a dire cosa metto nella tabella posso mettere questo mettete cosa volete la tabella sono a vostra discrezione ok e ovviamente dipendono un po' anche da come avete deciso di organizzare il resto le API e così via anche se diciamo che sulla base di quello che devo fare quasi tutti arriveranno con delle tabelle simili perché perché i dati sono quelli le tabelle contengono i dati allora è una tabella user se non c'è niente da inventare ok se non vi piace user la chiamate student no voi avete gli user questi avevano gli students la chiamata students ma il concetto è sempre lo stesso ok quindi cosa ci mettiamo non metto i backstick per se no non finiamo più comunque c'è il solito id nome potete usare l'inglese l'italiano l'importante è che fate attenzione poi nel codice nome di solito è comodo però se non è richiesto non ce n'è anche bisogno però se vuoi scrivere ciao qualcosa se no ciao e ci mettete l'email se non avete un nome quindi per dire chi è autenticato se volete mettere email e poi c'è sicuramente il sale e l'hash o password come abbiamo chiamato a lezione vedete solo di essere coerenti poi nel codice e poi e poi e poi vediamo nel senso che dipende il turno vabbè chissà perché lo dicono anche qui che vabbè allora diciamo nella tabella utenti questa è una tabella come le altre nel senso che se avete delle informazioni collegate all'utente potete mettere altre colonne no adesso non so se dirlo o no però insomma l'utente è amministratore o no se è una proprietà singola vero o falso potete tranquillamente mettere in questa tabella no non è che c'è bisogno se l'utente avesse dei ruoli va bene allora una relazione uno a molte gli serve una tabella no per dire l'utente x può fare questo l'utente x può fare quello sono righe diverse e così via però qui potete decidere di metterci quello che volete qui per esempio in questo tema d'esame il vostro collega ma anche io metterei per esempio il fatto se il piano di studi è full time o part time no perché è una proprietà collegata all'utente cioè un utente può avere un unico piano di studi e questo piano di studi può avere un solo valore no per cui se la relazione uno a uno va bene metterlo nella stessa tabella inutile che mi faccia una tabella con scritto id utente tipo di piano di studi perché perché alla fine puoi fare una join per cosa per niente perché in realtà c'è sempre solo un campo per ogni id no quindi e qui c'era boh full time non so chiamatelo come volete full time che sarebbe boolean vero o falso eh o tipo piano se non vi piace mettere un boolean perché poi nel db non potete mettere un boolean magari dovete mettere un intero 0 1 2 danni un significato quindi forse si poteva scrivere tipo piano io ho lasciato full time però vabbè e poi e poi le altre tabelle quindi ci vanno alle tabelle dei dati eh noi avevamo ricorda è sempre questo ci sono i corsi e ci sono eh il piano di studi no quindi allora sicuro che c'è una tabella corsi ok corsi va bene insomma con quello che è richiesto dalla traccia quindi qui c'era il codice nome sto scrivendo in italiano ma in realtà è in inglese ma fa lo stesso cfv numero di crediti e c'era max c'era il numero massimo di studenti e da max students no vabbè poi finisce che scrivo max studenti perché alcuni corsi potranno avere un massimo quindi anche qui devo poi decidere come tengo i dati nel db ci metto null ci metto zero ci metto meno uno boh decidete voi l'importante è che vi ricordiate cosa avete fatto no ehm e e poi cosa che c'era da fare un corso poteva avere corsi incompatibili ma più di uno e quindi siccome sono più di uno ci dobbiamo fare una tabella no con ogni riga un singolo corso incompatibile e poi poteva avere un corso un solo corso nel testo c'era scritto un solo corso un solo corso propedeutico no e quindi qui ci posso mettere propedeutico con l'idea che se c'è un valore c'è e se c'è null non c'è ok o se c'è stringa vuota insomma decidete voi qual è la codifica dei dati che volete usare nelle tabelle possibilmente non dico che è il caso di documentarla ma all'esame almeno ricordarsela perché poi se c'è qualche malfunzionamento finisce che andiamo a vedere in queste tabelle in queste tabelle ok l'altra tabella io metterei dunque cosa c'era il piano di studi no piano di studi ok e cosa ci mettiamo il piano di studi in realtà è molto semplice c'è il codice codice corso e il beh in realtà studente codice corso ed studenti ed user codice corso ok qui l'abbiamo chiamato user sono user ma sono gli studenti codice corso quindi saranno tante righe con lo stesso ed user e col codice corso tutti i codici che ho inserito nel mio piano di studi e ci possono essere più utenti e quindi la tabella conterà i piani di studi di tutti quanti e poi e poi cosa mi manca dunque il piano di studi l'incompatibilità no table incompatibilità incompatibilità e cosa faccio ci metto dentro il codice dice corso e il codice incompatibile codice corso incompatibile però i nomi tanto li scegliete voi compatibile ok cosa mi manca mi manca ancora un pezzo che in realtà qui non c'è nella documentazione quindi se l'è scordato va bene gli abbiamo dato tra l'interno dello stesso e il numero di studenti iscritti a un corso ok quindi in realtà nella tabella corsi ho bisogno di studenti iscritti perché è vero che c'è il max e può non esserci quindi abbiamo detto ci mettiamo null zero meno uno quello che volete però deve esserci anche il numero di studenti iscritti ok che qui in realtà non ce l'ha scritto però il posto dove metterlo è i corsi no perché è una proprietà del corso oh le tabelle sono finite non è che abbiamo da fare più di tanto io vi consiglio di fare come ho fatto lezioni di farvi uno scriptino sql che crea le tabelle ci mette dentro un po' di dati perché perché il giorno che vi sbagliate volete aggiungere una colonna eccetera non sempre è facile dal db browser con i programmini che usate per editare le sql aggiungere togliere cambiare i campi eccetera però potete fare come volete tanto a noi non interessa lo scriptino non interessa il file sql che deve essere usato per fare le prove ok e qui abbiamo finito nel senso che una volta che avete deciso quello non c'è niente altro da fare dovete mettervi a lavorare sull'applicazione perché c'è solo più l'applicazione da fare creare i componenti cominciare a scriverli vedere se vi manca qualcosa mentre scrivete il componente create l'api l'api del client create quella del server e così via se volete usare un approccio come dire più siete un po' più sicuri di quello che state facendo non so potete cominciare dal server creare l'api testarle testarle con il rest client che abbiamo visto durante le lezioni o col browser se sono delle semplici get non autenticate potete testarle come volete e cominciare a costruire l'api su server e poi andare sul client io vi consiglierei di fare una cosa mista perché adesso noi io più o meno so come va a finire e più o meno un po' di esperienza quindi penso di non essermi sbagliato però è sempre possibile sbagliarsi se poi uno ha scritto del codice e deve buttarlo via ha perso tempo quindi se uno comincia a implementare che so la get courses quindi si è fatto la tabella courses si è messo un po' di cose dentro fa l'api per recuperare i corsi li fa visualizzare ha già un pezzettino di un'applicazione che funziona se lo salva non c'è bisogno di usare git non ci interessa git non ci interessa nulla a noi interessa solo l'ultimo commit non andiamo a vedere nessuna storia niente ok se vi viene comodo potete anche usare git se siete capaci vi piace ma potete fare quello che volete salvatevi solo delle copie perché non è che possiamo venire in conto che ci dice mi si è rotto il computer della sera prima ho cancellato tutto si è rotto il disco tutte queste cose insomma siete alla laura magistrale ingegneria informatica ogni tanto salvate ogni tanto mettetevelo da parte in maniera che non lo cancellate e non ripartite da zero se capita qualcosa ok a questo punto possiamo quindi dicevo possiamo cominciare a scrivere il codice non scordatevi solo degli ultimi pezzetti allora io direi che in ordine di priorità le credenziali senza questi non possiamo testare l'applicazione teniamo l'hash nel db quindi non è che possiamo aprire il db e andare a vedere qual è la password abbiamo fatto l'hash apposta e non è che posso indovinare la password quindi dovete scrivere qual è lo username e la password corrispondente no è chiaro che non si farebbe così in un'applicazione reale ma noi abbiamo bisogno di avere queste informazioni per provarla quindi la password non la scriviamo da qualche parte nel git eccetera però noi lo facciamo per conosta comodità più tutte le altre informazioni richieste tipo nel nostro tema d'esame quello che avete adesso per il primo appello l'utente è amministratore o no perché poi quando sono lì è vero che adesso facciamo il test con voi di fianco per cui posso chiedervi però scrivete se l'utente è amministratore o no perché se io voglio provare se funziona una funzionalità da amministratore devo autenticarmi con uno che sia amministratore non lo so a priori se è Enrico Mario Pippo e così via ok quindi ogni tanto non c'è niente da scrivere ogni tanto sono utenti normali come in questo caso sono tutti studenti tutti uguali non c'è niente di addizionale da scrivere ok forse sì magari c'era da scrivere cioè può essere comodo sapere che uno non ha ancora creato il piano di studi così entro in quello e vado a creare un piano di studi da zero ok forse no devo entrare in un altro cancellarlo e poi crearlo informazioni di comodità ecco mi raccomando non scordate vi sembra banale però poi alla fine magari c'è chi lascia password e poi non ha scritto password usate delle password semplici e corte possibilmente perché cioè o sono precompilate però comunque ogni tanto dovremmo cambiare utente possibilmente la stessa password tanto abbiamo il sale non si vede neanche nel db ma non che sia una buona pratica ma una buona pratica per velocizzare il tempo che si sta lì a provare l'applicazione perché se per ogni utente devo andare a vedere qual era la password i 10 secondi che spendo in più per voi ci sono 180 iscritti ve l'ho fatto vedere sono mezz'ora ok in più sul tempo totale dell'esame solo 10 secondi quindi dover andare a leggere una password ok lo screenshot è una banalità è solo che in tanti non lo so si vede che usiamo questo markdown e non piace vedete che non si vede lo screenshot lo screenshot è il markdown questo md è un formato con come dire una sintassi specifica noi ve la diamo già pronto voi dovete solo creare una cartella img dov'è che si crea la cartella perché non si eccola qua img ci mettiamo prendo delle soluzioni ovviamente lo fate alla fine perché dovete avere lo screenshot della vostra applicazione però prendiamo questo file dove ho messo img ok nel preview richiudo no non viene fuori ho sbagliato img screenshot png ma forse non c'era scritto screenshot png ok boh magicamente è apparso infatti proprio non è che vi bocciamo per quello non è che togliamo punti per quello però diciamo se insieme a quello c'è il readme fatto male tirato giù eccetera mezzo punto un punto per un readme fatto male finisce che lo perdete ok ma è solo perché si è rotto il link dello screenshot però quei 30 secondi come ho fatto io solo per mettervi lì fare la prova basta fare preview vedere che si agganci che si veda non vi costa tanto ok perché ci serve lo screenshot più che altro per avere un'idea dell'applicazione prima di andare a lavorarci sopra ci serviva di più quando facciamo il test prima senza di voi adesso ci serve un po' meno però tipo apriamo l'applicazione e ci viene già cioè sappiamo già se si è caricata correttamente o no se abbiamo visto lo screenshot abbiamo una vaga idea di cosa dovrebbe apparire perché ognuno di voi avrà fatto poi quello che gli pare ok uno o due screenshot a seconda di cosa c'è scritto nel testo ma questo c'è scritto nel testo no cosa mettere deve esserci uno screenshot da qualche parte c'è scritto adesso trovo più e poi e poi i componenti ok ma proprio due righe nel senso che noi alla fine diciamo i componenti li andremo a vedere insieme a voi per cui questa descrizione è un po' l'ultima cosa che leggiamo se sono fatti bene tipo lista corsi piano di studi e non so bottoni piano di studi e so che altro c'era dove era il testo no in realtà più che il testo devo andare a vedere cosa ho disegnato e header login form e queste robe qua questi sono i componenti della nostra applicazione i principali non non tutti non il bottone per salvare o non so cosa altro vi siete inventati come vostro componentino non ci interessano i bottoncini o le singole cose ci interessano diciamo i componenti di alto livello ok che possono essere anche pochi non necessariamente devono essere tantissimi dipende dall'applicazione nel vostro tema d'esame non lo so ci sarà componente pagina non so ipotizzo dipende non è obbligatorio però ci sarà boh non so neanche cosa potrebbe esserci un boh ci sarà un componente che fa la visualizzazione per l'utente non autenticato ci sarà un form in cui si può creare la pagina qualcosa di questo tipo le solite cose che hanno senso insomma niente di particolare ok però questa parte ovviamente la scrivete poi alla fine come lo screenshot dopo che avete più o meno organizzato la vostra applicazione quindi in realtà questi componenti li dovete avere prima voi in mente svilupparli vedere come vi viene fuori la vostra applicazione li aggiustate e poi scrivete questo ultimo pezzettino nelle tabelle se volete potete specificare qualcosa in più diciamo che se avete dato dei nomi significativi alle colonne sono quasi autoesplicative no certo se scrivo id1 id2 id3 non ci capisco più niente però se scrivo id user codice corso piano di studi capisco è una tabella che mi dice come è fatto il piano di studi e così via ok quindi questa descrizione potrebbe quasi bastare così se proprio volete aggiungerci qualcosa anziché spiegare che l'hash è l'hash della password che lo sappiamo perché lo prendete da quello che abbiamo fatto come esempio ci mettete che so dov'è propedeutico può anche essere null no oppure full time 0 uguale full time 1 uguale part time o no meglio il contrario comunque null uguale non specificato giusto per quasi ricordarvelo più a voi che a noi no perché in realtà se poi funziona non andiamo praticamente neanche ad aprire il database col db browser perché a noi interessa che l'applicazione sia supportata dal database e queste informazioni vengano ricavate dal database però non è che dobbiamo per forza andare a vedere tutti gli angolini di tutta l'applicazione incluso database ok allora a questo punto possiamo scrivere l'applicazione in realtà il nostro tempo è quasi finito però io vi faccio vedere che pensate ha fatto il vostro collega che in realtà sono un pochino diverse da quelle che abbiamo fatto noi qui ok quindi questo lo mettiamo si readme diciamo così aula readme lezione e vado qui dentro farei che andare direttamente qui dentro poi ve lo ve lo metto nel git in maniera più comoda però questo è quello che ha consegnato il vostro collega in realtà readme eccetera l'ho un po' editato come ho indicato a tato due o tre cosine andiamo a vederci l'applicazione e poi vediamo cosa cosa combinato così avete anche un'idea di come funziona l'esame potete venire ad assistere agli esami non c'è nessun vincolo particolare ovviamente magari non avete voglia di vederne 180 se siete gli ultimi secondo me però è utile che vi fate una vaga idea soprattutto se non siete i primi il primo saremo un po' più indulgenti con i primi che non hanno visto diciamo come funziona l'orale dal vivo ok però diciamo avete un'idea di come si svolge l'orale no guardiamo l'applicazione a parte che ve l'ho detto però non so di quello che chiediamo come lo chiediamo e così via ok allora facciamo funzionare un'applicazione che funziona che è la stessa cosa che faremo noi all'esame lo faremo su un server remoto per comodità perché dobbiamo fare 180 npm install ci porta via un sacco di spazio comunque non è un vostro problema il computer ce l'abbiamo noi facciamo tutto noi come scritto nelle fac quindi in soluzioni noi entriamo in server mi sa che qui devo ancora fare l'npm install perché avevo fatto l'altro e poi ho il client quindi soluzione client npm install anche qui ecco se ci sono se ci sono errori bloccanti ok bisogna risolvere se ci sono errori tipo c'è un problema di sicurezza qui e là ma si è installato tutto possiamo lasciare tranquillamente perdere ok non è un nostro problema dato più che aggiornare l'ultima versione del pacchetto non possiamo fare ma dal nostro punto di vista le funzionalità restano esterne stesse quindi ci cambia nulla allora nodmon è lo stesso nodo nodmon index mi raccomando che si chiami index lo ridico e che parta sulla porta 3001 ok e qui npm run dev questo partirà come il solito 5173 perché servono le porte perché abbiamo il corsa se parte su una porta è diversa nel corso non funziona più dobbiamo editarlo è altra perdita di tempo vediamo localhost 5173 5173 adesso aspettiamo un attimo ok questo è più o meno lo screenshot che avevo pensato qui no utente login non c'è l'utente c'è un login ci sono i corsi ok ci sono i corsi e sono apribili indipendentemente come chiedeva il testo ok questo è incompatibile con un altro corso vabbè questa era una bella soluzione voi non è richiesto di fare tutto ciò ok non è richiesto che ci passo sopra il mouse e mi viene fuori come si chiama questa nuvoletta che mi dice cosa c'è potete scrivere cose di fianco tranquillamente senza fare tanta formattazione eccetera che vi porta solo via tempo l'importante è che insomma se è una tabella che sia in colonna ecco perché se sono le cose a caso non ci capiamo più niente però non è necessario che sia tutto così perfetto bellissimo con le iconine con la cosa rotonda eccetera non ci interessa che sia rotonda quadrata se l'avete fatto bene prendete il 30 lo stesso se l'avete fatto male indipendentemente dal fatto che sia rotonda non lo prendete ok che si colori quando lo apro eccetera non fa niente ok quindi questa è la schermata iniziale facciamo il login qui ha già precaricato no use name pass sono due stati il solito form il form controlled quindi c'è lo stato inizializzato con un utente una password valida quindi lo ringrazio perché io faccio solo il bottone login e in un secondo anziché 20 provo a fare il login e questa è la seconda schermata è quella che avevamo pensato in questa maniera no? poi ci saranno un po' di variazioni no? perché noi abbiamo fatto una pensata generica ma ecco qui a sinistra mi rimane come era richiesto la lista di corsi mi rimane il fatto che non posso aggiungere io posso aggiungere perché ci sono i bottoni disabilitati o no mi rimane il fatto che c'è scritto l'incompatibilità il motivo dell'incompatibilità posso aggiungere quindi faccio più mi compare a destra ok? posso fare salva e viene salvato a questo punto volendo posso cancellare tutto il piano di studi adesso non lo faccio perché poi devo ricominciare da capo e sulla base dell'aggiunta che faccio poi mi si attivano e disattivano i bottoni adesso non si può più aggiungere nulla perché sono a 77 su 80 e se aggiungessi questi crediti andrei a oltre 80 quindi posso togliere qualcosa qui per esempio l'ho fatto con il link non l'ho fatto con il bottone computer architeto si può togliarsi si e si attivano i più o i meno questo è tutto fatto lato client come faccio a sapere che è fatto lato client perché voi me lo direte all'esame se ve lo chiedo ma io come faccio a saperlo ma io all'esame lo testo sempre in questa maniera abbiamo come vi dicevo il tab network sotto aperto adesso poi arriva vedete io faccio le azioni e non succede nulla sulla rete e sta facendo lato client se proprio volessi vado nei componenti però devo sapere in quale componente ci sono le cose in realtà lui aveva usato il context quindi è ancora diverso però quando faccio salva faccio salva e viene fuori post study plan modification request add rem quindi aggiungere muovi ha fatto un'api diversa da quella che avevamo pensato noi ci può stare ognuno di voi arriverà non dico tutti con un'api diversa perché in 180 non è che se ne fanno 180 diverse però insomma ognuno ha le sue maniere di interpretare le api per esempio qui l'interpretazione è stata vabbè io il piano di studio ce l'ho già creato e mando solo le modifiche che ho fatto ok questa è una possibilità noi quando abbiamo pensato le nostre noi abbiamo detto rimanda rimanda tutto quindi rimpiazza l'eventuale esistente la nostra è più semplice nel senso che va nel db cancella tutto e poi aggiunge tutto dopo che ha fatto la verifica se il piano di studio è valido la sua invece va nel db e fa solo le modifiche che ho richiesto quindi farà delle insert e cosa si chiama delete dopo che ha fatto che la verifica che il piano di studio sia corretto quindi la verifica c'è sempre cambia cosa faccio sul db ecco a uno così una così chiunque sia dico perché l'ha implementato così perché ha voluto mandare solo le modifiche e non riscrive tutto il piano di studio mi darà una risposta no una risposta ragionevole potrebbe essere minimizzo il traffico che vanno in rete evito che nel frattempo qualcuno mi rubi il corso che io non intendevo modificare anche se però abbiamo detto che nella singola API questo non succederebbe perché noi lo facciamo con la transazione lo faremmo in teoria con la transazione anche se non lo richiediamo però sono tutti ragionamenti ragionevoli l'importante è che si tirano fuori dei ragioni ragionamenti che siano accettabili no anche se qui risparmiare in realtà c'è poco da risparmiare sono pochi byte che voi mandate tutto il piano di studi o mandiate diciamo solo le modifiche no cioè non è non è un Google Doc che magari è di 100 pagine e ogni volta che scrivo un carattere mando su 100 pagine allora lì ha il suo senso mandare solo cosa ho fatto in più in meno cancellato aggiunto ma qui è una scelta come un'altra l'importante non risponde proprio mi è venuto così cioè cos'è è piovuto non è mi è venuto ho fatto ragionamento mi sembrava una soluzione se non sapete proprio cosa dire almeno dite mi sembrava una soluzione ragioneva io dirò perché però perché perché appunto perché perché c'era meno traffico perché tanto erano esattamente le azioni che stavo facendo sul client e io ho tenuto uno stato con le azioni da fare perché adesso ipotizzo perché così potevo fare l'andù non era richiesto ma posso annullarle sulla lista delle azioni che ho fatto se invece ho solo il nuovo piano devo farmi le differenze è un esempio non so ho iniziato a pensarlo in questa maniera che era più complicato di come doveva essere fatto e poi ho proseguito in questa maniera va bene ci sta ok l'importante è dare delle spiegazioni ragionevoli ok va bene e poi e poi andiamo avanti no quindi facciamo log out verrà fuori la delete della session e facciamo cosa possiamo fare ricarichiamo l'applicazione perché alla fine non ho visto all'avvio cosa faceva all'avvio c'era anche loading ma loading non è che devo per forza vederlo da qui possiamo andarlo a vedere nel codice e cos'è cursis ok questa è la lista di corsi sono tutti corsi qui non è che di solito caricherei tutti i corsi del Politecnico però in questo tema ad esame è semplice possiamo caricare tutti si chiedeva di vedere la lista di tutti e dovete caricare tutti l'utente non era autenticato quindi sarà normale che ci siano get api perché me l'ha preso get api session current e viene unauthorized perché è normale niente di di cui spaventarsi ogni tanto apriremo anche la console in cui esceranno questi messaggi è importante che non escono errori di programmazione cioè variabili undefined o robe di questo tipo login quindi network login ecco vi faccio vedere solo questa cosa ancora get current questa è diciamo la stessa api che mi dice se l'utente è autenticato e il vostro collega ha deciso di metterci non solo i mail name quindi le informazioni dell'utente ma anche full time e tutto il piano di studi ok è accettabile di fatto di fatto è è un po' è un po' come aver fuso la get study plan con la get api session current no ma attento tutte e due sono autenticate tutte e due ritornano alla stessa cosa se non c'è il piano di studi non ci sarà la parte di sotto cioè sarà il piano di studi non settato non lo so cosa ha pensato di me nulla cosa c'è e la lista è vuota nulla di male ok tanto il piano di studi devo farlo vedere no devo far vedere o il piano di studi o il fatto che non c'è quindi questa informazione la devo caricare questa è un api che si può tranquillamente fondere con l'altra ok l'api che invece non c'era era quella della modifica perché noi abbiamo pensato di fare rimpiazza e abbiamo pensato di fare la modifica e quindi si è fatto un'altra post per fare la modifica ok quindi ognuno è libero di fare come ritiene l'importante è che non ci siano cose appunto irragionevoli ecco e lui è di nuovo uno di quelli che ha pensato di fare il num enrolled no quindi se noi andiamo a vedere dunque aggiungiamo un corso ecco questo cioè anzi questo lo togliamo ecco courses questa e get courses filter enrolled ok la risposta è più semplice del piano di studi è proprio la lista dei corsi con il numero di studenti iscritti che sono solo i corsi che hanno un massimo ok perché ho fatto così perché così ho minimizzato la quantità di traffico che passa ma non è che prendete i punti perché minimizzate la quantità di traffico che passa solo se è veramente necessario lo chiediamo e ce lo aspettiamo ok ecco in realtà lui non l'aveva fatto col punto interrogativo questo l'ho modificato io tanto per farvi vedere qualcosa di diverso quindi abbiamo un api courses che senza punto interrogativo qualcosa va a chiedere tutti e se ci mettiamo un filtro un po' come fate nel lab possiamo chiedere solo una parte dei dati ok se no fate due get get api courses get api courses come avevamo scritto barra numerold numero iscritti se scrivete in italiano quello che volete ok pubblica non autenticata ci sta non è un segreto se non deve essere mantenuto segreto questa informazione ma tanto forse si chiedeva addirittura di mostrarla in un page lui l'ha mostrata però no quindi tipo questi sono i numeri degli iscritti l'ha mostrata adesso non mi ricordo se nel testo l'ha chiesto o no comunque insomma l'importante è non mostrare ciò che deve restare segreto questo si quindi che altro possiamo ancora dire ecco magari diamo un giro nel codice poi finiamo il server questa è la soluzione si server al suo index.js ci sono le varie root ecco ricordatevi ricordatevi la validazione la validazione è una di quelle cose che guardiamo prima di andare a fare le azioni sul server sul db dobbiamo assicurarci che sia tutto a posto nella richiesta ci deve essere una validazione formale se mi aspetto un numero deve esserci un numero non può arrivare una stringa e va bene questa è la cosa facile e poi c'è una validazione di tipo contenuto cioè se io mi aspetto che il piano di studi soddisfi certi requisiti bisogna che verifico se li soddisfi se no mando indietro la richiesta dicendo non si può fare e poi qualcosa deve succedere lato lato applicazione quindi dovrà esserci un posticino se guardate nel codice c'è un posticino dove c'è l'errore o comunque cosa c'è che non è andato ok qui siccome aveva un API che lo creava da zero c'è anche l'errore è già presente se noi invece abbiamo la sovrascrittura quindi rimpiazziamo non ci sarà questo errore quindi non avremo questo problema quindi ha la sua check mi sembra si sarà la check study plan mi raccomando l'utente deve sempre uscire da rec user id e mai dalle richieste del client quando la API è autenticata quindi avrà messo is logged in infatti e così via sul lato del client ecco vorrei farvi vedere questa cosa sul lato del client all'esame quasi sempre farò così andiamo a cercare le use effect vi faccio notare che in questo in questo in questa soluzione c'è una sola use effect perché poi lo so che piacciono le use effect a tutti piace cambia quella variabile aspetto che faccio questa cosa eccetera impasticcio l'applicazione in una maniera che poi diventate matti a debaggarla matti a capire come funziona e se veramente l'aveste sviluppata così poi tra tre mesi quando andate siete lavorate dopo tre mesi dovete rimetterci ma non ci capite più niente neanche voi che l'avete fatta ok ora va bene questo forse è un caso un po' limite nel senso che magari una use effect in più da qualche parte poteva anche starci ok però fondamentalmente diciamo non è che una use effect vuol dire faccio solo una chiamata all'API le altre chiamate all'API partono sulla base degli eventi faccio più su un corso faccio salvo al corso e così via sono eventi la use effect ci serve a partire su qualcosa che non è un evento generato dall'utente quindi ho il caricamento come all'avvio controllo se l'utente è già logato il caricamento di dati iniziali e così via oppure sulla modifica di qualche valore ma deve esserci un po' una logica dentro perché se comincio a fare le modifiche quando si cambia un valore comincio a introdurre delle catene di dipendenze se invece faccio le modifiche quando si verifica un evento è chiarissimo quando vado a fare queste cose perché? perché sono agganciate all'evento io clicco più e vado ad aggiungere il corso vado a caricare il numero di iscritti al corso clicco save e vado a chiamare l'API per salvare ok? quindi non ho bisogno della use effect che non vuol dire che diamo più punti a chi usa meno use effect e non è una gara a usarne di meno però diciamo che ho visto dei temi d'esame con 10 use effect che funzionavano che sia ben chiaro perché? perché se voi la debuggate per una settimana riuscite a farlo funzionare però avete passato una settimana a debuggare un codice che non finiva più e che è pieno di dipendenze che magari poi a un certo punto vi accorgete ho dimenticato questo tocco qui si rompe di là e vi serve un'altra settimana poi arrivate la sera alle 23 eccetera e dovete ancora sottomettere il progetto ok? quindi cerchiamo di mantenere il codice più semplice possibile dal punto di vista delle dipendenze interne potremmo ancora lo so che siamo un po' fuori tempo ma dopo ci saremmo noi quindi non stiamo ridando il tempo a nessuno potremmo ancora dare un'occhiata dove ha messo gli stati gli stati ne ha messo in app quindi ci sono i corsi gli errori lo studente che sarebbe poi lo user per il nostro caso e il piano di studi vabbè il loading e il waiting vabbè dipende dipende questo non sono strettamente indispensabili ok? avevo usato il context così ve lo metto anche perché così se siete curiosi di vedere un po' il context come gira eccetera potete dare un'occhiata il context non è indispensabile basta passare le cose come props nei vari componenti finché basta e del context è fatto tranquillamente a meno e non è che vi do i punti in più perché avete usato il context e poi vabbè c'è c'è il form quindi avrà due o tre stati c'è un po' di stati per gestire il form email password errore tutto quanto e e poi nel piano di studi cosa ho fatto boh vabbè attivare o disattivare il bottone per il delete eccetera ma vabbè non so forse se l'avessi fatto io magari io avrei fatto ancora diverso ognuno di voi lo farà diverso questi sono stati locali ci possono stare perché perché alla fine se dovete mettere uno stato su un bottone attivo disattivo dovete cioè e lo dovete settare sulla base di qualcosa che è capitato di fatto vi serve uno stato però se uno stato locale è componente non è che mi preoccupi più di tanto mi preoccupo un po' più se c'è uno stato globale che non si capisce a cosa serve o c'è insomma c'è una gestione di questi stati che serve solo a scatenare delle use effect per fare delle altre cose di solito queste cose qua sono indicative di una logica strana dell'applicazione per cui sicuramente durante l'orale approfondiamo cosa avete combinato cosa cercavate di fare ok cercate di non arrivare all'ultimo momento a sottomettere la soluzione che poi lo so durante l'orale non avevo più tempo ho fatto così dovevo aggiustare questa cosa non sapevo più cosa fare ho messo uno stato ho messo una use effect vabbè cioè vi capisco arrivate all'ultimo momento uno deve consegnarlo se no ha sprecato un po' il tempo a sviluppare l'applicazione deve poi fare l'altra a piello successivo capisco però bisogna anche capire che non è una soluzione così bella come si poteva cioè come come si poteva fare quindi magari non prende proprio il massimo funziona abbastanza ben fatta eccetera prende un bel voto ma non è detto che prenda il massimo ok io direi che vi metto online questo magari quando torno in ufficio è un po' più comodo ve lo metto sulla solita cartella del git dove è andata questa qui esempio esame probabilmente ci sarà un'altra soluzione dello stesso tema d'esame non so se l'ha già pubblicata il mio collega no l'ha messa privata però è privata comunque la pubblicherà prima o poi la vedrete secondo me perché la metterà pubblica perché stanno facendo la stessa lezione anche negli altri corsi in inglese ok che hanno i laboratori anche loro alla stessa ora di oggi io l'ho vista è un altro collega come voi che ha sviluppato sempre la stessa la soluzione lo stesso tema lo stesso tema d'esame devo dirvi che mi piace un po' meno però correggendo un po' di cose che non mi piacciono tanto potrebbe andare abbastanza bene ok tanto così ne vedete due quindi questa cosa non mi dispiace però per esempio il form di login per come l'ho visto a meno che non l'abbiano cambiato ultimamente non gestiva non submit no non è che mi piaccia tanto un form dove non si gestisce non submit perché si può fare tutto senza non submit però bisogna gestire i click dei singoli bottoni il form non serve più a niente no non vi funziona l'invio non ci sono tante cose che migliorabili ok avrà un'API diversa perché l'API è la cosa dove ci possiamo sbizzarrire di più non ha queste API delle variazioni se non mi ricordo male come ha fatto il vostro collega datevi un'occhiata un'altra soluzione non è non è malvagia è sicuramente un po' migliorabile in alcuni punti ok però diciamo è corretta non voglio dire prendeva 30 anche quella ma probabilmente sì ok dovrei guardarmela un po' meglio però probabilmente lo prendeva lo stesso ok perché non è che sia fondamentalmente sbagliato non gestire l'on submit del form ok perché se non ho bottoni per fare submit non è che mi serve gestire l'on submit è una di quelle buone pratiche no se proprio è pieno di brutte pratiche magari ci pensiamo un po' prima di dare 30 se però c'è solo una cosa ma funziona lo stesso uno ha detto va bene non ho messo il bottone on submit si ha ragione si poteva mettere vabbè se tutto il resto va bene rispondete bene durante l'orale e così via va bene lo stesso ok allora io direi che finiamo qui eh se avete ancora dei dubbi domande sull'esame anche se avete già chiesto abbastanza sono ancora qui mentre smonto bocca al lupo per l'esame pensateci se volete fare il primo appello o no perché siete i 180 per ora prenotati è vero che è necessario prenotarsi per dare l'appello ma se uno non vuole più darlo basta sprenotarsi ok e dovreste cioè vedrete sicuramente il tema d'esame del secondo appello prima che consegnate il primo quindi in questo senso siete privilegiati se ritenete che poi sia più facile fare il secondo siete in ritardo per il primo eccetera potete tranquillamente fare il secondo ok va bene grazie il cpd mi raccomando il cpd per favore il cpd vi manderò ancora dei remand grazie allora